Troppe volte il bene rischia di non fare rumore, troppo facilmente una tragedia umanitaria qual è la guerra in Ucraina rischia di non fare notizia con la stessa forza con cui impressionava nelle prime settimane del conflitto. E invece la guerra entra ora nella fase più delicata, quella dell'implacabile inverno dell'est Europa. E va in questa direzione la macchina della solidarietà che fra le scuole del campus di Pesaro sta facendo un piccolo grande gesto canalizzato su un luogo preciso, quello della metropoli di Kharkiv. Interventi mirati in cui ogni studente è stato coinvolto nel donare almeno un euro, mobilitando anche i propri familiari in donazioni specificatamente indirizzate a riscaldare e confortare le famiglie della seconda città ucraina durante i mesi invernali di streno a resistenza. Un'iniziativa presentata oggi nell'aula magna dell'Iceo Mamiani con uno studente in rappresentanza di ogni classe coinvolta nella missione solidale coordinata dalla Onlus Gulliver per un campus che conta 5.000 studenti per altrettante donazioni. Come Gulliver seguiremo sia dall'inizio la raccolta fondi nelle scuole di Pesaro, l'invio dei denari a Varsavia dove padre Luca acquisterà tramite un accordo con la Rao Merlen delle stufe padane in legna. La Gulliver si occuperà poi del trasporto e della consegna alle famiglie. Quindi seguiremo concretamente dall'inizio alla fine tutta quanta la filiera di questa bellissima iniziativa. Il nostro intento è quello di portare ciò che studiamo a scuola e ciò di cui si parla quotidianamente soprattutto in questo periodo storico nel concreto, raccogliendo delle piccole somme coinvolgendo i ragazzi, le famiglie, i docenti perché questo è un po' l'importante, è questo che fa parte forse dell'educazione, rendere concreto le parole che vengono espresse in classe. Anche in seguito a una raccolta fondi fatta già in precedenza abbiamo cercato di dare il nostro contributo nel nostro piccolo perché è importante essere uniti anche in queste situazioni anche se non riguardano in prima persona noi proprio per far capire a tutti la nostra solidarietà e il nostro conforto nei confronti di tutti in questa situazione così devastante e tragica. Sicuramente vogliamo essere la generazione della speranza, la generazione del cambiamento ma se noi questa generazione sta imparando così tanto ad aiutare il prossimo anche perché la generazione precedente ci sta aiutando, ci sta insegnando questo. Queste iniziative partono dalle scuole perché le scuole sono il posto dove più di tutto si forge una persona e si forge al senso critico e la razionalità e soprattutto la solidarietà. In collegamento da Varsavia anche padre Luca Bovio, coordinatore dell'opera Don Adriano Vincenzi che coordina sul campo gli aiuti facendo la spola fra Polonia e Ucraina. L'inverno è lungo in questa parte del nostro continente, iniziato adesso si protrae almeno fino al mese di marzo, a volte anche aprile con temperature molto basse, per cui la prospettiva è medio-lunga, non è corta purtroppo. Ed è grazie a queste piccole azioni che qua la gente ha dei reali benefici. Quindi grazie per tutto quello che fate e sicuramente ce ne c'è tanto bisogno, ecco, del limite del possibile, se si può questo messaggio così portare a più persone possibili, in modo che anche il tema della guerra, un tema terribile, resti sempre un tema attuale, agli orecchi di molti. Non ci dobbiamo mai abituare purtroppo a queste realtà così sofferenti. Il nostro invito forte a tutte quante le scuole della Regione Marche, da Ancona, Ascoli Piceno, Fabriano Iesi, studenti, docentevi, partecipate a questa iniziativa perché è veramente forte, l'inverno sta arrivando e la solidarietà purtroppo tocca riscoprirla nella Regione Marche perché siamo partiti molto forti durante l'inizio della guerra, adesso siamo un po' in difficoltà e dobbiamo riscoprire con forza la parola solidarietà. Da padre Bovio al professor Gerolamo Spreafico dell'Università Cattolica è arrivato anche l'invito a organizzare per i ragazzi pesaresi un viaggio a Kharkiv per vedere di persona gli effetti della loro azione solidale. Sarebbe un'iniziativa stupenda perché si potrebbe vedere dal vivo ciò che i TG passano, anzi forse è il metodo migliore per rendersi conto effettivamente di quello che sta succedendo, tanto che tutte queste notizie, seppur utile informarci, a volte un po' ci estraniano anche e quindi essere vicino a queste cose ci fa capire il frutto del nostro lavoro e vedere con occhi concretamente ciò che sta succedendo e questo è fondamentale.